Salve a tutti! Ecco qui finalmente ultimato il BAC con l'integrato LM2596. Quindi ecco qui come è venuto, abbiamo qui ovviamente c'è l'integrato nel suo package TO220, questo è l'ingresso, il condensatore di ingresso e qui c'è l'uscita, quindi con il condensatore di uscita, l'induttore e qui sotto si vede il diodo di rettifica. Mentre la parte di sotto è appunto dedicata al controllo in corrente, quindi attraverso il feedback che arriva da questo shunt che è stato realizzato con in pratica 20 centimetri di filo avvolto, arriva a questo integrato e poi ovviamente viene amplificato e poi tramite lo schema che abbiamo visto nel precedente video, insomma si riesce ad effettuare diciamo un falsamento del feedback per essere controllato anche in corrente e qui poi c'è la parte di ldo per andarsi a generare la 5 volt che serve all'amplificatore operazionale per svolgere il suo compito. Ecco come si presenta anche la parte inferiore dello schedino, quindi iniziamo la parte di saldature e poi questi sono dei ponti per andarsi a prendere le diciamo i nodi più lontani del circuito. Quindi adesso che cos'è che vedremo nel video? In pratica andremo a fare appunto un test per verificare che in effetti la scheda funziona, quindi sia un test in controllo di tensione e sia un test in controllo di corrente per verificare che in effetti questo ramo riesca effettivamente a falsare il feedback. Quindi preparo il setup e ci vediamo direttamente per la fase di test. Ecco qui il setup di misura, quindi con questo multimetro andremo a leggere la tensione ai capi del carico messo in uscita, mentre con quest'altro multimetro andremo a leggere la corrente che scorre sul carico. In questo caso ho montato una resistenza da 10 ohm per questa prima prova, mentre per la prossima monterò una resistenza da 1 ohm. Infatti per questa prima prova voglio solo verificare il feedback di tensione. Sto alimentando con una 12 volt e adesso vado a variare il trimmer del feedback. Quindi partendo dal minimo, dalla tensione minima che l'integrato può dare in uscita ovvero 1,25 volt, qui in verità leggiamo 1,20 ma è un errore tollerabile. Partiamo dal minimo e vediamo fin dove arriviamo, in teoria ovviamente fino a 12 volt. Come si può vedere girando il trimmer la tensione aumenta e di conseguenza aumenta anche la corrente in modo proporzionale. Ed essendo che la resistenza è da 10 ohm diciamo che la relazione è rispettata. Infatti si può vedere che la corrente è 10 volte più piccola della tensione. Vado ecco qua. Vado fino al massimo. Ecco qui. Al massimo abbiamo in uscita 11 volt con un ampere e 10. Quindi c'è un volt di caduta fra ingresso e uscita ma diciamo che è tollerabile. I componenti sono anche piuttosto freddi. Quindi per quanto riguarda la regolazione di tensione si può dire che il back sta funzionando. Ho montato la resistenza da 1 ohm e come si può vedere già con la tensione minima di uscita di 1 volt abbiamo 1 ampere. Quindi diciamo che anche in questo caso la relazione è rispettata. Ora ho impostato il trimmer della corrente al massimo. Quindi dovrebbe far passare tutta la corrente che in base di progettazione è stata decisa quindi nell'intorno di 2 ampere e mezzo. Quindi se vado ad aumentare il feedback di tensione si vede che la tensione aumenta ma dovrebbe fermarsi a 2 ampere e mezzo. Ok si è fermata perché io continuo a girare ma non aumenta. Quindi si ferma a 2 ampere e 13. quindi un po' inferiore rispetto a quella che era stata pensata ma il feedback di corrente sta funzionando. Ora se io vado a girare quest'altro potenziometro la corrente dovrebbe calare. Ok si sta funzionando quindi in questo momento diciamo che siamo in controllo di corrente. Ok quindi questo circuitino riesce effettivamente a falsare il feedback dell'integrato e quindi si riesce a regolare anche la corrente di uscita. davvero molto molto bene. Come abbiamo visto quindi la scheda il circuito funziona perfettamente anche se durante la fase di debug mi sono accorto che c'era un errore nello schematico che avevo presentato nel video precedente. Infatti questa parte qui è stata presa dal progetto del carico elettronico e in quel caso il controllo di corrente diciamo che aveva un feedback invertito per farlo funzionare. Che cosa è successo? In pratica se fosse riportato così come sul foglio nel circuito in pratica invece di avere un feedback negativo che quindi aumenta la tensione quando la corrente aumenta oltre una certa soglia in realtà quello che succede qui è che la corrente aumenta sempre. Quindi in pratica è proprio un ragionamento inverso. L'errore dove sta? Che questo nodo doveva essere connesso a questo trimmer mentre il nodo positivo di questo amplificatore operazionale deve essere connesso all'uscita di quest'altro e in questo modo in pratica il controllo in corrente funziona correttamente quindi avviene il corretto feedback negativo. Quindi questo è l'unico errore che è stato commesso in questo progetto è un errore di distrazione ma comunque valeva la pena parlarne. Per quanto riguarda invece le sorti di questo schedino diciamo che resterà un prototipo infatti non l'ho montato su nessuna tavoletta perché la mia intenzione era quello di costruirlo per verificare che in effetti il discorso del feedback falsato funzionasse perché le mie vere intenzioni sono quelle di realizzare una schedina col suo fratello maggiore quindi con l'integrato XL4016 che riesce a portare in uscita molta molta più corrente. Sto aspettando che mi arrivino i componenti per poterlo realizzare e poi faremo una serie di video appunto per la realizzazione di un back un po' più prestante. Molto bene per questo video quindi è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie!